vediamo come creare un account con il business manager di facebook da zero allora nella barra dell'url scriviamo business.facebook.com ok crea account ok per creare l'account ovviamente bisogna avere prima un profilo facebook e quindi quando fai crea account inserisci le tue credenziali che utilizzi normalmente per accedere al tuo profilo facebook ok allora accedi ok e quindi crea account bene allora qui dobbiamo dare un nome ok e un indirizzo email ok allora il nome non apparirà da nessuna parte ok quindi potete mettere anche il nome e il cognome insomma quello che quello che volete tipo pinco pallino pinco pallino avanti ok qui mettete l'indirizzo allora qui su sito web ok e allora se hai un sito web chiaramente inserisci un un tuo sito ok se non hai nessun sito metti per esempio un il link a un prodotto che non so di affiliation park o di world filia ok quindi andiamo a tutte le campagne va bene io adesso prendo un un prodotto a caso ok copia ok questo account usa gli strumenti dati di facebook principalmente per promuovere i suoi prodotti o servizi un attimo che su qui cambio il numero di telefono ok ok paese italia bene inizia ok ok la creazione di pinco pallino è andata a buon fine conferma il tuo indirizzo email ok clicca sul link inviato all'indirizzo email fine in realtà alla fine io sono già dentro a pinco pallino quindi insomma nel mio caso sembra che non non devi neanche confermare la mail comunque insomma controlla e verifica ok adesso cosa dobbiamo fare dobbiamo questo è praticamente un business manager ok all'interno di un business manager possiamo creare 5 ad account quindi 5 account pubblicitari in sostanza quindi vediamo di crearlo quindi andiamo sulla rotta e basta cliccare qui impostazioni di business manager ok qui a sinistra ok account pubblicitari vedete pinco pallino non ha ancora account pubblicitari quindi clicchiamo su aggiungi qui crea un nuovo account pubblicitario nome dell'account pubblicitario praticamente allora il pinco pallino è il nome di del business manager ok e adesso diamo un nome al primo account pubblicitario che potrebbe essere pinco pallino 1 ok fuso orario ok qui attenzione valuta se no farete come me che io ho un account in dollari e quindi scegliete euro che è più semplice per fare i conteggi ok avanti questo account pubblicitario sarà usato per la mia azienda pinco pallino crea ok aggiungi le persone e imposta le autorizzazioni quindi pinco pallino perché era il nome e cognome che mi ero a me insomma tu utilizza insomma il tuo nome e cognome vero gestisce le campagne e gestisce l'account pubblicitario chiaramente assegna l'account pubblicitario è stato creato e aggiunto a questo account business manager chiudi ok controlliamo che facciamo aggiungi persone assegna ok mi raccomando fate anche questo passaggio quindi cliccate qui poi su aggiungi persone ok fine altra cosa che dovete fare è inserire chiaramente il metodo di pagamento quindi su pagamenti vedi non hai ancora alcun metodo aggiungi e qui inserite appunto i dati della carta può essere una carta di credito o come scritto qui di credito o di debito quindi va benissimo la carta di credito ovviamente non solo della tua banca ma anche una carta di debito quindi prepagata come può essere una post pay anche la classica post pay gialla o la post pay evolution insomma ecco inserisci il tuo metodo di pagamento fai continua io adesso ci sto semplicemente facendo vedere con un business manager nuovo non vado ad inserire nessuna carta perché va bene è solo per farti vedere come come creare il business manager da zero bene quello che devi fare adesso quando lancerai le tue prime campagne ok con questo business manager e con questo ad account che abbiamo appena creato quando hai speso 5 10 euro ok per le tue pubblicità vai a fare un pagamento vai subito a pagare facebook ok già quando sei arrivato a qualche euro quindi 5 euro vai a fare un pagamento manuale quindi cosa farai andrai su allora su gestione inserzioni adesso qui ovviamente non c'è niente ok e poi sempre qui nei trattini qui in alto su fatturazione qui ovviamente non si vede niente comunque da da qui praticamente impostazioni di pagamento adesso a me fa aggiungere il metodo di pagamento è quando hai precedentemente inserito il metodo di pagamento qui ti darà la possibilità in sostanza di fare un pagamento manuale ok per certo facebook ti fa pagare in automatico quando raggiungi una certa soglia ok che all'inizio comunque è bassa poi nel tempo si alza te vai a fare un pagamento manuale questo perché questo serve se tu vuoi io ti consiglio comunque di farlo creare più ad account quindi più account pubblicitari all'interno di questo business manager ok quindi cosa succede te apri il business manager hai creato una di account spendi tipo 5 euro fa il pagamento manuale da là puoi creare altri quattro account pubblicitari dentro lo stesso business manager quindi cosa farai andrai sulla rotellina qui su account pubblicitari vedete adesso ce n'è solo uno farai aggiungi farai la procedura che abbiamo visto prima però devi farlo cioè dopo che in questo pinco pallino 1 hai speso qualche euro di pubblicità e hai fatto un pagamento ok dopo il primo pagamento che hai fatto che sia manuale oppure lasci che che facebook te lo debiti in automatico vedi te puoi creare gli altri quattro account ok praticamente ogni business manager può avere quattro e scusa può avere cinque account pubblicitari quindi vedrai il pinco pallino 1 2 3 4 5 seguendo la procedura che abbiamo visto prima aggiungi account pubblicitario crea un nuovo account vedete adesso non me lo fa fare per esempio e poi all'account pubblicitario assegnali la persona mi raccomando bene detto questo altra cosa che devi sapere è che puoi con lo stesso account facebook creare un altro business manager ok in sostanza ti basta uscire ok esci e rifare tutta la procedura crei gli dai invece che pinco pallino gli dai tizio e caio e crei il secondo business manager crei il primo ad account spendi i primi soldi di pubblicità fai il primo pagamento e crei gli altri ad account quindi in sostanza con un profilo facebook ad oggi ok mentre sto registrando questo video puoi avere due business manager e ogni business manager può avere in totale cinque ad account perché fare tutto questo tutto questo perché può benissimo succedere che facebook ti banni ok quindi ti disattivi per esempio un account pubblicitario o addirittura un intero business manager quindi è bene che tu al più presto ti armi di tutte le risorse possibili ovvero due business manager e in totale 10 ad account per creare il secondo business manager comunque creati prima il primo ok crea il primo ad account fai il primo pagamento crea gli altri ad account poi crea il secondo business manager con la stessa procedura per creare appunto ti te lo ricordo di nuovo e poi abbiamo finito questa parte è basta che fai esci ok e rifai tutta la procedura pure se vai su business .face.com slash overview ecco qui puoi creare praticamente un altro business manager in sostanza bene ecco 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 legale ecco guardate ecco 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 Grazie a tutti